Mettere in rete il sistema bancario con le forze dell'ordine, rilevando in tempo reale eventuali malfunzionamenti dei sistemi di videosorveglianza ed assicurando l'immediata acquisizione e geolocalizzazione delle immagini da parte delle centrali operative. È uno degli obiettivi del protocollo di intesa stipulato tra Prefettura di Barletta Andrea Trani ed Associazione Bancaria Italiana. Il fine ultimo è quello di migliorare i sistemi di difesa delle filiali contro i rischi di rapina, furti agli ATM e alle cassette di sicurezza, truffe ed attacchi informatici. Abbiamo visto che le rapine alle banche sono scese enormemente, il numero delle rapine alle banche si sono quasi azzerate perché sono state adottate misure idonee a contrastare questo fenomeno, mentre sono aumentate i furti ai bancomat, agli ATM. Questo logicamente richiede un'attenzione particolare, un'implementazione del protocollo al fine di contrastare questi fenomeni, ma soprattutto con la diffusione dell'informatica e quindi la tecnologia che va avanti impone di adeguarci ai nuovi strumenti di cybercrimen e quindi di adeguarci a contrastarli nel miglior modo possibile. Truffe online, frodi informatiche e attacchi hacker, una criminalità sempre più tecnologicamente evoluta, non smette di assediare i sistemi di difesa delle banche, costrette ad innalzare il livello di sicurezza delle loro filiali. L'obiettivo è sempre alzare il livello di sicurezza, sia per continuare il trend positivo per quanto riguarda l'antirapina, ma anche per contrastare fenomeni emergenti come gli attacchi agli ATM, le truffe agli anziani, gli attacchi di cyber physical security, quindi il perimetro si allarga del documento pattizio, ma i risultati finora sono positivi. Grazie. Grazie. Grazie.